E a proposito del calo dei ricoveri nella terapia intensiva abbiamo chiesto ad Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, di analizzare la situazione. Vediamola nell'intervista. Meno persone infette ci sono e chiaramente la frazione di persone che sviluppano sintomatologia grave o gravissima diminuisce. Quindi stiamo assistendo a una diminuzione dei contagi che penso sia il risultato di tutte le restrizioni adottate fino ad ora. Zona rossa, zona arancio, però fra poco si potrebbe tornare in zona gialla. Guardi, se si ritorna in zona gialla, dopo un po' ritorneremo in zona arancione perché le zone gialle, se visto, non funzionano. E in più abbiamo un'incognita della riapertura delle scuole. È la fase ideale per il vaccino? In genere si vaccina in assenza di trasmissione o con trasmissioni molto basse. Sicuramente siamo in una situazione migliore di quella che potrebbe essere novembre o inizio dicembre. La questione di probabilità è che più c'è trasmissione, più il virus muta. Più ci sono mutazioni, più è probabile che emerga una che abbia una trasmissibilità più elevata o che sia in grado di eludere la risposta indotta dal vaccino. Cosa si può fare se emergessero delle varianti resistenti? Bisogna mettere in piedi un sistema per identificarle queste varianti resistenti. C'è solo un modo per impedire che queste varianti si diffondano è circoscrivere rapidamente la zona dove sono presenti e bloccare tutto.